Yemen, ciao ragazzi, oggi siamo a mare, abbiamo preso bel sole, bel relax, ci siamo divertiti tantissimo, vero Alfredo? Certo. E' grande, e niente, cosa faremo oggi, di cosa parliamo? Prima di attaccare il video, eravamo lì, dai Alfredo di cosa parliamo oggi, dai 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 con la sita, dai! E' uscito fuori un argomento, perchè noi ormai non è che prepariamo gli argomenti, non c'è bisogno. Quello che ci passa per la testa. Diamo proprio l'informazione pura, diretta. E niente, è uscito fuori il discorso del sistema scolastico, che effettivamente il sistema scolastico non è più funzionale come una volta, perché il sistema scolastico è restato quello di una volta, mentre l'era di oggi è andata avanti, la tecnologia è andata avanti. Quindi le persone che escono da scuola hanno avuto problemi, soprattutto a cercare il lavoro, a trovare le soluzioni, perché a scuola cosa ti insegnano? Ti insegnano a essere un dipendente o autonomo, quindi scambiare tempo per denaro. Siccome è l'era di oggi, non ti permette di farlo, perché entriamo in una società dove non c'è lavoro, c'è crisi, le tecniche di guadagno sono totalmente diverse da quello che ci insegnano a scuola e siamo proprio in netta difficoltà. Infatti la stragrande maggioranza snobba i lavori di network marketing, snobba tutte queste cose, perché sono ancora con la mentalità antica, perché pensano che bisogna lavorare per i soldi, io voglio un lavoro sicuro, a fine mese voglio guadagnare 2000 euro, quelle che sono, però sicuro, faccio 8 ore di lavoro. Quindi facendo così, infatti la stragrande maggioranza è disoccupata in questo momento. Quindi è solo peccato, sta cosa sono solo in pochissimi, a buttarsi nel network, anche se all'inizio non può riuscire, ma almeno provarci, perché molti proprio lo snobbano totalmente e questo secondo me non era… Perché chi ha una mentalità antica ha riscontrato risultati con i sistemi antichi e quindi se ci dovessimo mettere nella loro parte, effettivamente anche loro hanno ragione, ma oggi come oggi i sistemi di una volta non funzionano più e a scuola, ritornando al discorso della scuola, le materie che ci fanno studiare, i comportamenti che ci inculcano, il 90 se non di più non serve dopo la scuola, perché rientriamo in un discorso sociale totalmente fuori dal discorso scolastico. Anzi adesso l'unica scuola, se non sbaglio, è la Bocconi di Milano, che stanno da poco, da qualche annetto credo, che stanno facendo, c'è una materia proprio a network marketing, al multilever. Quindi adesso si stanno evolvendo pure le scuole in questo momento, quindi questa è la cosa che vogliamo trasmettere, ormai bisogna cambiare, bisogna cambiare, non restare, magari i genitori ci hanno trasmesso quella cosa del lavoro, prenditi una qualifica, fai l'operaio… Il status, il pezzo di carta, ora in questo preciso momento, in quest'era che stiamo passando, serve a ben poco, perché avviare un'attività di network marketing non ci vuole un pezzo di carta, uno status, una professione, ci vuole solamente tanta voglia di fare, attitudine, mettersi in gioco, capire come funzionano i nuovi sistemi. E invece a scuola ci hanno fatto, ci hanno insegnato e ci hanno inculcato, ci hanno fatto studiare anche cose che non ci servivano. E infatti… E infatti… Cose anche contro la nostra volontà. Non contro la nostra volontà, è solo perché, per una tradizione, è solo perché bisogna fare così. Sì. E invece nella vita bisogna seguire ciò che vi piace fare, proprio su questo argomento domani vi parleremo su come è possibile accrescere e sempre migliorare sempre di più sulle cose che veramente vi piacciono fare. Focalizzare su quello che vi piace fare. Assolutamente. Perché noi spendiamo tantissimo, tantissimo tempo al lavoro, quindi immaginare una vita di fare una cosa… Che non vi piace. Penso tutte le mattine svegliarsi con il musolo e dice che devo andare a lavorare, che noia, è bruttissimo, bruttissimo. Immaginiamo di fare tutta una vita così, no. Domani vi parleremo su come… sulle cose che vi piacciono fare, perché bisogna fare le cose che vi piacciono fare. Niente, ragazzi, questo è tutto da Mirko Castrogiovanni. Alfredo Frontino. Iscrivetevi sulle… Sul canale YouTube. Cerche di Google. Sì. E se volete anche voi generare rendite automatiche come stiamo facendo noi, cliccate proprio qui sotto che riceverete tre video gratuiti e potete anche voi sfruttare la potenza di internet e guadagnare anche voi. E tutto è possibile grazie a internet. Ci vediamo domani con la sfida. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao.